Moretta Prefabbricati, una sicurezza per le tue costruzioni. Moretta Prefabbricati, da oltre 50 anni, propone soluzioni all'avanguardia nel campo dell'edilizia. L'azienda, da sempre in continua espansione, è oggi diventata una realtà di riferimento nel proprio settore. Tutto iniziò nel 1954, a Lovero, in provincia di Sondrio, quando Eligio Moretta decise di proporre un impianto di produzione inerte e di blocchi in cemento per costruzioni. Successivamente sono stati gli anni Ottanta a rappresentare un punto di svolta, grazie all'ingresso in azienda di Gian Mario Moretta, che, dopo aver affiancato il padre nella gestione, ha cercato nuovi orizzonti produttivi. L'evoluzione, segnata dalla ricerca della qualità e dal costante aggiornamento tecnologico, ha condotto nel 1988 alla produzione di solai prefabbricati. Ma è nel 2005 che Moretta Prefabbricati ha compiuto, grazie ad una meticolosa capacità costruttiva, superiore alla media presente sul mercato, un notevole salto di qualità, con la realizzazione di un impianto di produzione completamente automatizzato, in grado di operare con grande flessibilità e assicurando altissimi standard qualitativi. Nel 2005 nasce così uno dei prodotti di punta dell'azienda, la parete a doppia lastra con elementi prefabbricati. Costituita da due lastre in calcestruzzo collegate tra di loro con tralicci metallici, la parete viene integrata in cantiere con un getto di completamento. La prima fase di realizzazione della lastra consiste nella preparazione e nel tracciamento. Il pianale viene pulito e cosparso con prodotti disarmanti, in emulsione acquosa non inquinanti. Le armature trasversali, dotate di distanziatori, utili per garantire la formazione del copriferro, secondo le prescrizioni normative e progettuali richieste, vengono posizionate automaticamente. Sotto la stazione di plottaggio, un braccio meccanico controllato da un sistema CAD-CAM traccia la geometria della lastra con un getto di tempera. Il pianale viene posto sotto la macchina dei ferri longitudinali. L'acciaio è raddrizzato, tagliato e posato come da scheda di progetto. Lo step successivo prevede il taglio e la posa dei tralicci, contrassegnati con dei cartellini identificativi, garantendo ad ogni singola lastra la rintracciabilità nelle successive fasi di produzione. Nelle lastre impegnate per la formazione di solai alleggeriti con prestazione di resistenza al fuoco, vengono inseriti gli elementi di sfiato prescritti dalla normativa vigente. Il calcestruzzo viene preparato nell'impianto di betonaggio, dotato di dosatori a peso per i singoli componenti della miscela ed assoggettato a costanti verifiche di taratura. Le formulazioni, sviluppate con tecniche di mix design, prevedono l'utilizzo degli additivi necessari per garantire al calcestruzzo le caratteristiche prestazionali e di durabilità richieste dalle specifiche progettuali. La distribuzione del calcestruzzo è gestita automaticamente dal dosatore che garantisce la formazione degli spessori strutturali rispettando le interruzioni di getto. La compattazione dell'impasto è ottenuta mediante oscillazione, idraulicamente controllata, dell'intero pianale. A completamento del prodotto viene posato il polistirene di alleggerimento sul calcestruzzo ancora fresco, garantendo così tra i materiali l'aderenza utile per le fasi di trasporto e posi in opera del prodotto. La camera di stagionatura, dove la lastra con tutto il pianale viene riposta per le prime 12 ore, consente il miglior sviluppo delle caratteristiche prestazionali richieste al calcestruzzo strutturale. Per la formazione della parete doppia, il pianale con la prima lastra stagionata viene portato nella postazione di ribaltamento, ruotato e calato con precisione sul getto in calcestruzzo fresco, così da essere legata tramite annegamento dei tralicci. Raggiunte le caratteristiche necessarie per la movimentazione, si procede allo scassero dei manufatti e dal loro stoccaggio su adeguati supporti, pronti per la spedizione in cantiere. Gli elementi a doppia lastra, sempre più apprezzati nel settore edilizio, costituiscono una economica ed interessante soluzione per molteplici problemi di carattere architettonico, tecnologico e organizzativo di cantiere. Moretta prefabbricati. Qualità e stabilità. Una sicurezza per le tue costruzioni. Grazie a tutti.